ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario reuterà al pet informazioni commerciali titolare nbf lan ssrl concessionario nbf lan ssrl confezioni reuterà al pet 30 capsule 11 e 25 g formulazione isomalto sale di magnesio dell'acido ostearico batteri inattivati e loro parti limosilectobacillus reuteri nbf 1 2,6 per cento carbonato di calcio maltodestrina amido di mais additivi nutrizionali vitamine 3 a 835 vitamina b 12 13,3 mg barra chilogrammi additivi zootecnici stabilizzatori della flora intestinale 4b 1850 limosilectobacillus reuteri dsm 32 203 3,3 a 10 5 e 13 ufc barra chilogrammi 4b 1710 saccarumice cerevisiae muc 39.885 2 a 10 5 e 12 ufc barra chilogrammi 4b 1820 bacillus vele sensis dsm 15.544 6,6 a 10 5 e 11 ufc barra chilogrammi 4b 1707 interococcus faecum dsm 10.663 cim 10.415 1,8 a 10 5 e 11 ufc barra chilogrammi additivi tecnologici e 464 idrossipropilmetilcellulosa e 551 acido silicico precipitato ed essiccato apporto nutrizionale per 1 capsula da 375 mg l reuteri dsm 32 203 1 e 25 a 10 5 e 10 ufc s cerevisiae muc 39.885 7,5 a 10 5 8 ufc b vele sensis dsm 15.544 2,5 a 10 5 8 ufc e faecum dsm 10.663 cim 10.415 7 a 10 5 7 ufc l reuteri n bf 1 inattivato 10 mg vitamina b 12 5 amg componenti analitici proteina grezza 8,8 per cento fibra grezza 2,3 per cento grassi grezzi 4,3 per cento ceneri grezze 7,2 per cento umidità 3,3 per cento indicazioni reuterà al pet cane a un mangime complementare per cani privo di derivati animali che grazie alla sua formulazione molticeppo 13,6 miliardi per capsula contribuisce a stabilizzare la flora intestinale reuterà al pet cane contiene l'imosilecto bacillus reuteri saccarumice s cerevisiae bacillus vele sensi sedenterococcus faecum in grado di favorire il normale equilibrio della flora intestinale posologia somministrare reuterà al pet cane per via orale direttamente in bocca all'animale oppure in aggiunta all'alimento completo in ragione di cani 1 capsula al giorno fino a 25 kg di peso vivo due capsule al giorno da 26 a 50 kg di peso vivo tre capsule al giorno oltre i 50 kg di peso vivo dell'animale le capsule possono essere somministrate intere oppure aperte e il contenuto distribuito sulla razione quotidiana completare la razione giornaliera con l'alimento abituale lasciare sempre acqua fresca a disposizione fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato il ris Grazie a tutti.